Benvenuti sul mio canale YouTube, il posto giusto per trasformare il sudore in sorrisi e l'energia in risultati concreti. Sono Marta Fovana, istruttrice fitness e personal trainer, pronta a guidarvi in questo viaggio verso il vostro benessere psicofisico. Con un mix di ginnastica con e senza tretti, trampolino e indoor cycling, sul mio canale YouTube trovate tutto ciò che vi serve per allenarvi divertendovi. Come sempre i miei video saranno totalmente gratuiti perché la mia missione è condividere la mia passione per il fitness per dare la possibilità a tutti di raggiungere una forma psicofisica ottimale attraverso un movimento. Per questo motivo sul mio canale YouTube nella sezione playlist trovi più di 3000 video totalmente gratuiti, ordinati in cartelle a seconda della stagione e della tipologia dell'allenamento. Ma ora vediamo cosa ci riserva questa nuova stagione. Ogni giorno troverete un allenamento da 15 minuti dove si alterneranno ginnastica corpo libero, ginnastica con attrezzi e trampolino. Lunedì e venerdì ci saranno i video della nuova stagione dedicati alla ginnastica. Mercoledì, trampolino. Martedì e giovedì ore 18 e 15 vi aspetto tutti per la live di indoor cycling, immancabile. Lunedì e mercoledì, sempre parlando di indoor cycling, continuerà l'appuntamento delle ride da 30 minuti. Così come domenica verrà mantenuto l'appuntamento con la combo, ovvero una lezione da 60 minuti che alterna mezz'ora di trampolino e mezz'ora di allenamento a corpo libero o con piccoli attrezzi. Ed infine per gli amanti dell'indoor cycling, quelli che proprio non ne possono fare a meno neanche un giorno a settimana, ci sarà il Remix. La lezione allunga che remixa due allenamenti della passata stagione. Insomma, come avrete capito, a maggio 2025 non avremo più una sola goccia di sudore da versare. Quindi, pronti? Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale YouTube e accendete la campanella per non perdere neanche un allenamento. E se avete qualche domanda o volete lasciare un pensiero, fatelo nella chat sotto i video. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!